La società Olympic Morbegno, nata tre anni fa dalla fusione tra Olimpico-Retica e Morbegno-Calcio 1908, è alla ricerca di una figura di custode, che si occupi della manutenzione dei due campi di Morbegno, la Manzio Toccalli, stadio ufficiale della prima squadra, e Campo Vico, e del campo comunale di Trauna. Queste figure che noi ricerchiamo sono figure che fondamentalmente si tratta di gestire i campi da calcio, nel senso la preparazione del campo, la sistemazione quotidiana, la pulizia delle aree circostanti e soprattutto degli spogliatoi. La dirigenza morbeniese ritiene che per questo ruolo sia necessario trovare una famiglia in grado di suddividersi i compiti. Per tutti coloro che desiderano arrivare al conferimento della carica, è previsto un colloquio conoscitivo. Il sodalizio della città del Bitto in questi anni sta compiendo notevoli passi avanti dal punto di vista dell'organizzazione. A livello di numeri, sta raggiungendo cifre importanti, non solo grazie al calcio a 11, ma anche con quello a 5. Sono coinvolti nel progetto un numero sempre più elevato di bambini. Quest'anno è stata introdotta la squadra allievi. Inoltre, un significativo apporto alla società è fornito dalla formazione del tiro alla fune, unica realtà lombarda presente nel panorama nazionale, che in questi due anni ha intrapreso un percorso di crescita inarrestabile. Morbegno ha avuto da poco l'onore di ospitare una prova del campionato italiano di questa disciplina. Ottima la prova della compagine morbeniese, che ha concluso la sua performance in quinta posizione. Teatro della manifestazione è la palestra comunale di Via Faedo, che ha fatto registrare un grande afflusso di pubblico.